Il 13 giugno del 1979 nasce a Torre del Greco Mauro Esposito, uno dei talenti emergenti della prima nazionale di Marcello Lippi. Cresciuto nelle giovanili del Pescara, il centrocampista esterno, consacratosi con la maglia del Cagliari, riceve la prima chiamata azzurra il 9 ottobre del 2004, giocando dal primo minuto il match valido per le qualificazioni ai mondiali del 2006 contro la Slovenia. Dopo l'esordio in una competizione ufficiale, Esposito entra a far parte del gruppo di Lippi, disputando da titolare però soltanto quattro amichevoli, escluso dalla comitiva azzurra che centra il quarto titolo mondiale della storia dell'Italia, il 16 agosto del 2006 viene schierato dal primo minuto contro la Croazia nel giorno dell'esordio di Roberto Donadoni sulla panchina della nazionale. Quei 45 minuti resteranno per Mauro Esposito gli ultimi della sua esperienza in azzurro.